Arturo, Arturo, incrociamo le dita ragazzi, Arturo ne ha trasformati tre in campionato, dei suoi sette gol Arturo, Arturo, lo vanno a disturbare, Mexes fa il furbetto Banti allora gli dice di spostare leggermente la palla di un millimetro, era già sul dischetto comunque Arturo davanti la porta, al centro a Meglia e dietro alla sud Ha un passo nella trasformazione, il destro di Arturo, gol, 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 gol La Juve, gol, la Juve, gol, la Juve, gol, quando il gioco si fa duro, dal dischetto, trasforma Arturo, 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 Arturo 1-0